Puntuale anche nella penultima domenica dell'anno l'appuntamento domenicale ai microfoni di Radio Dimensione Musica con il dottor Giuseppe Raffa. Il pedagogista vittoriese e coordinatore ambulatorio antibullismi all'ASP di Ragusa, intervistato dal nostro direttore Piero Giunta, ci parla dell'uso degli algoritmi. Oggi parola comune tra gli addetti ai lavori e questi come vengono utilizzati sui social. Ascoltiamo il dottor Giuseppe Raffa. Allora dottor Giuseppe Raffa, spieghiamo cosa sono gli algoritmi e come possono influenzare? Ci sono termini tecnologici della cittadinanza digitale che tutti noi, adulti specialmente, dobbiamo conoscere per aiutare i nostri giovani a affiancarli nella navigazione. L'algoritmo per esempio, che cos'è? Il termine stando a qualunque dizionario indica ogni schema o procedimento sistematico di calcolo. Gli algoritmi sono ovunque, ci propongono film su Netflix, tanto per fare un esempio, smistano le nostre mail, ordino i risultati dei motori di ricerca. Sui social inoltre la fanno da padroni. Sono una risorsa preziosa da questo dire perfezionare di continuo. Chi sui social ci lavora, pubblicitari, influencer, comunicatori e giornalisti, ovviamente, cerca di sfruttarli a proprio vantaggio. Vediamo in che maniera. Gli algoritmi sono i misori invisibili dei cosiddetti feed, cioè le porzioni dei social dove possiamo vedere i contenuti dei cosiddetti amici, degli account, cioè che abbiamo deciso di seguire, della nostra rete di collegamenti. Oggi un algoritmo passa al setaccio ai materiali, seleziona ciò che ritiene più rilevante per noi e ce lo propone nel cosiddetto feed, penalizzando tutto il resto. Gli algoritmi sono protetti da segreto industriale, dunque solo gli ingegneri dei social sanno nel dettaglio come funzionano veramente. L'algoritmo non è statico nel biennio 2015-2016, ad esempio quello di Facebook dava maggiore rilevanza ai contenuti video rispetto a foto e testi, ma nel 2018 il social ha fatto una parziale marcia indietro. Come i surfisti, i social media manager cercano di capire in quale direzione va l'onda algoritmica per cavalcarla al meglio. Ci sono concetti di base, a cominciare da engagement, ovvero coinvolgimento, il termine indica una delle caratteristiche che contribuiscono a rendere un contenuto interessante agli occhi dell'algoritmo, cioè la capacità di indurre gli utenti a interagire con like, commenti, condivisioni. Un contenuto coinvolgente viene proposto a più persone affinché l'engagement generi altro engagement. Per i social è un circolo virtuoso, per chi ha creato il contenuto in questione come aver pescato il joll. Anche contenuti carichi di odio e fake news purtroppo possono risultare molto coinvolgenti. Quando TikTok intuisce le potenzialità di un video, ad esempio, realizzato nel sordiente da un account di nicchia, lo pesca nel mare di contenuti e gli dà una chance di visibilità che su altre piattaforme è più difficile conquistarsi se non si ha già un vasto seguito. Ecco perché molti giovani prevescono TikTok ad altri social. L'algoritmo inoltre propone contenuti agli iscritti anche sulla base dei loro interessi, sia quelli dichiarati esplicitamente sia quelli deducibili dai suoi comportamenti. E' bene ricordarlo comportandosi di conseguenza. Ringrazio il dottor Giuseppe Raffa, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.